buonanotte praticamente a tutti sono appena finite le partite degli ottavi di finale del dell'atp master mille di parigi berzi prima di commentare l'invito è come al solito a mettere like al video iscrivervi al canale per poter partecipare al fanta tennis 2022 che partirà con la prossima stagione e ditemi che non è vero ditemi che non è vero ditemi che è un incubo perché pensare che c'è un francese nei quarti di finale di un mille e i nostri due sono a casa insomma un pochino far rudere partiamo dalla fine della giornata ovvero dall'incontro che doveva sancire l'ingresso nell'elite del tennis di alcarazza che io avevo visto giocare ho sempre detto che è purtroppo per lui ancora è molto discontinuo ecco oggi e in commenti sul video di ieri avevo detto vediamo cosa succede quando la pallina diventa pesante anche per lui ecco oggi era quel caso lì perché affronti sei 40 del mondo hai un ottavo di finale con il con uno che non è nei top 100 occasione della vita vero con il pubblico a sfavore vero con un pubblico francese ai limiti del vergognoso perché hanno hanno applaudito gli errori hanno fischiato tra la prima e la seconda tutto vero per il primo set e può essere colpa del pubblico vai 5 0 nel secondo devi andare al terzo non puoi subire un parziale di qui ci scappa da ride perché c'è una cosa incredibile non puoi subire un parziale di sette game a fila e un parziale di tt 4 game a zero perché questo ha perso 13 punti consecutivi sia in battuta dalla risposta ha preso quattro game a zero vuol dire che il ragazzo è molto forte molto forte però non è neanche paragonabile a cosi natal neanche a 18 anni avrebbe preso sette game di fila magari il set la partita la perde ma sul 5 a zero natal a 18 anni va al terzo gioco vici a 18 anni fa al terzo fedele a 18 anni vanno al terzo questo si è sciolto come neve al sole ma non si è sciolto sul 5 a 4 quando ormai si vedeva che il 7 era finito si è sciolto dopo aver preso il primo break l'attenzione di entrata preso il primo break cioè 52 e questo si è completamente appannato e ha subito dal 52 subito quei quattro game consecutivi dove dove non ha fatto quasi un punto ripeto 13 a 0 mi sembra di parziale e ha perso la partita 75 non è neanche andato a tie black cioè 56 partita finita break break del su cinque pari e gastona che concede un punto al servizio e poi chiude quindi questa dimostrazione che il ragazzo è forte ma quando io ho detto che questo aveva pescato la mia incazzatura di ieri era perché per l'ennesima volta questo aveva trovato la partita dell'anno con un italiano l'aveva già fatto a berrettini con berrettini a vienna dove rettina il torto di avergli regalato il primo set ma nel secondo e nel terzo un calo del genere ci poteva stare era già successo con marley era era successo per dirvi conti si può essere del terzo 7 l'aveva perso male questo ha dei momenti di vuoto in cui non mette la palla di là purtroppo con gli italiani ha trovato 5 set stellari e ne ha perso uno che ci si deve fare ma però è una cosa quello che è successo oggi è la dimostrazione che a carazze ovviamente forte però è un non è paragonabile ai top 3 ecco cioè chi parla che questo vincerà 20 stem il carattere a 18 anni l'ha già formato puoi migliorare il tennis ma non puoi migliorare il carattere e questo i buchi li avrà sempre momenti di in cui sparisce dal campo ce li avrà magari diventeranno meno perché migliorerà il suo tennis ma e poi questa è sconfitta insomma che fa male perché parliamoci chiaro avere la possibilità di entrare nei quarti di finale contro medvedev giocando contro il 101 del mondo quindi in ottavi avere un avversario teoricamente più debole di te e perdere in questo modo è veramente agghiacciante perché ripeto oggi non ha messo il primo set non ha messo una palla di là ma era comprensibile perché aveva 15 mila belve che gli tiravano contro ma il palazzo di bersin sul 5 a 0 è diventato silente cioè su 50 i francesi si stavano riposando aspettando il terzo set per tifare gaston ormai l'avevano già che dato perso questo si è si è sciolto come neve al sole e quindi la partita è stata incredibile perché chi l'ha vista ha visto al carazzo che al cambio di campo su 56 era in lacrime è una sconfitta pesante cioè se conta la psiche questa è una sconfitta calcarazza rischia di portarsi dietro io non gliela voglio tirare ma insomma io faccio per i miei e quindi se questo baby fenomeno dovesse venire stoppato male male non ci sto ecco per quanto riguarda le le altre partite le speranze di sinner di andare a stoccolma perché ha già detto che non farà alle finals ma farà a stoccolma giustamente per provare a difendere la nuova posizione della race e la top ten non che essere 10 11 negli eventuali sorteggi dei tabelloni cambi cambi tantissimo se ci arrivi 10 11 trovi comunque una tra la 5 la 8 a sorteggio quindi non cambia tantissimo però fa bene a cercare di difendere la race non opposto nella re smettite che non glielo vogliamo tirare nemmeno a lui ma ammettite che il problema il problema al braccio fosse più grave di quello che è e saltasse zizipas e interebbe il nono e sarebbe sì ovviamente speriamo di no ma se succede è bene che il nono sia sinner che non e non norri ecco tutto lì che comunque le partite di oggi ursac ha tremato tanto ragazzi ursac ha veramente rischiato con crefer è finito sotto un 7 un break ciò quasi sperato di l'operazione gufaggio non è riuscita e usa che l'ha ribaltata 4 6 7 5 6 2 terzo il terzo sette non c'è stata non c'è stata storia poi abbiamo avuto dupport che ha battuto poprina e sarà l'avversario di duke di ursac in in quarti di finale sarà praticamente l'ultima speranza per persino per poter andare a stoccar da asia a stoccolma con delle chance di qualificarsi negli 8 perché se usa dovesse perdere da dupport domani tocca corvare si andrebbe a a stoccolma con un jack e sinner che si lotterebbero l'ultimo posto e se sinner dovesse arrivare info vincere il torneo senza che usa che entri in semifinale l'ottavo sarebbe e annick poi norri che questa è una gran notizia ha perso con fritz e 2 7 a 0 6 3 7 6 il buon fritz ci ha fatto un favore speriamo di non doverlo restituire coppa davis ma questa è una gran notizia di okovic ha superato il turno per il forte di monfilz che aveva già detto io con gioco che non ci gioco fate voi che il gioco vince va avanti zero e va sofferto le pene dell'inferno con dimitrov sembrava nel terzo set sul loro ha dovuto annullare due tre palle prete nel terzo se ma sul loro di cedere ma ha vinto 7 6 6 7 6 3 uno zero perché secondo me è il favorito del torneo rude abbattuto molto facilmente girona che si è qualificato per le finance per 6 2 6 1 medvedeva sofferto con corda perché ha perso il primo mette di pepeze 4 poi entrato in modalità us open è finita 4 6 6 1 6 3 di alcaraz gaston abbiamo parlato una partita che probabilmente tra il secondo set entra sicuramente nella storia perché insomma ci sta di perdere di essere rimontati da un 5 a 0 ma non andare neanche al tie break insomma è una situazione abbastanza pensante cioè magari sul 54 un atto ti va a 5 pari che tiene il servizio ma i 65 poi sei pari e poi perdi il time perdi comunque gli rimonta ma è veramente la l'emorragia di punti lasciati da dal baby spagnolo è stata una cosa ai limiti dell'incredibile oggi abbiamo assistito veramente a a un crollo totale che che a carazze ripeto aveva arriva già rifatto in passato non a questi livelli ma il gioco di a carazze a a punte altissime e punte molto basse e purtroppo quando ha trovato sinner e berrettini si è mantenuto stabilmente sui livelli molto alti dando per scontato che i nostri non erano al top né berrettini nel sinner sinner il sinner di dieci giorni fa contro questo alta razza ci fa le polpette lo trita come 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 il tritacarne trita il macinato per le polpette non è andata così siamo a sperare che ducort ci dia una chance nel caso che domani dovesse vincere uzak la chance ce la dovrebbe dare un eventuale ma non augurabile problema di zizi pass e soprattutto un gran torneo di sinner a stoccolma che comunque dovrebbe far meglio di norri perché il rischio sul passo a stoccolma con norri che esiste detto questo io vi auguro la buona notte ci vediamo domani per commentare i quarti di finale è incredibile che nel momento migliore del tennis italiano ci sia un francese nei quarti e zero italiani roba roba da abbattere il capo del muro grazie a tutti e buonanotte